Ciao a tutti, come rispondere agli insulti di una persona in modo da farti rispettare in modo ingegnoso? In questo video voglio spiegarti come rispondere agli insulti di una persona in modo da farti rispettare in modo ingegnoso. Prima di affrontare il tema iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere diversi livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate a videoregistrazione e seminario del vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. E adesso veniamo al tema, come rispondere agli insulti di una persona per farti rispettare in modo ingegnoso. Allora, è molto importante rispondere in modo intelligente agli insulti di persone che vogliono provocare, che vogliono, diciamo, generare conflitti. Sono persone difficili che puoi trovare in tutte le situazioni della tua vita, soprattutto, che ne so, tra colleghi di lavoro, capo ufficio, frequentazioni, insomma. Allora, ci sono persone particolarmente aggressive che, avendo rabbia dentro, cercano di scaricarla verso l'esterno. Tieni presente che tutte queste tipologie di persone sono dei poveretti che scaricano la rabbia in qualche modo. Allora, la cosa peggiore da fare è, diciamo, reagire con insulti a vicenda, perché da un lato puoi anche passare dalla parte del torto, dall'altro puoi, diciamo, non ottieni nessuna soddisfazione. La cosa migliore è, diciamo, quando una persona ti insulta, ti provoca in qualche modo, lì per lì non rispondere nulla, ricalca un pochettino e cerca di capire ma scusa, perché mi stai dicendo questo? Qual è il tuo problema? Cerca di farlo ragionare anche se sarà difficile. Nel contempo, tra virgolette, la vendetta va consumata freddo, quindi prendi tutto il tempo per avere informazioni su questa persona. Il maggior numero di informazioni che tu puoi avere su questa persona è sapere soprattutto qual è la sua, i suoi punti deboli, da un punto di vista emotivo, se ha qualche punto debole, che ne so, da un punto di vista economico, e quello che devi fare è andare ad amplificare i suoi punti deboli. Tieni presente che le persone che manifestano questo tipo di insulti, di rabbia, eccetera, hanno sicuramente dei punti deboli. Inizia a stimolare, ma perché questa rabbia? Cosa ti è capitato nella vita? Tieni presente che chi ha rabbia compressa in questo modo e la scarica, al 99% avrà avuto delle problematiche a livello infantile, delle problematiche a livello genitoriale, perché sono rabbie, sono paure compresse che vengono fuori. E quindi basta che tu... Dovrai ad amplificare, no? Ma scusa, come mai tutta questa rabbia? Mi spiace che tu abbia sofferto, magari da bambino. Lo so che alle volte può succedere che i genitori possano essere particolarmente aggressivi, possano addirittura fare del male. È successo anche a un mio amico che bla 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 e vai a cercare di toccare diversi tasti. Chi ha della rabbia reattiva del genere ha subito sicuramente dei torti, delle violenze, altrimenti non farebbe, non tirerebbe fuori questa rabbia così inutile, questa aggressività così inutile. Quindi sono persone che o sono state, tra virgolette, ferite da magari nell'adolescenza, nella pro-adolescenza, hanno subito comunque dei torti, che non sono mai riusciti a giustificare, che sono ancora agli aperti. Quindi parlando in questo modo tu riuscirai, come dire, ad amplificare questi turbamenti e amplificando, facendo crescere questi turbamenti, otterrai un vantaggio molto importante, cioè il vantaggio che genererai un picco di emozione. Non importa che la persona subito percepisca o magari sia subito attiva a recepire questo, ma nel momento in cui vai a toccare il tasto del conflitto, che normalmente è a livello genitoriale o col padre o con la madre, è normalmente legato a violenze, quindi o soprusi o umiliazioni subite, tu vai a toccare il tasto dell'umiliazione, il tasto del sopruso, il tasto dell'aver violato la dignità, soprattutto in ambito genitoriale, oppure potrebbe essere anche in ambito scolastico, con i compagni di scuola, sono persone che normalmente hanno subito delle umiliazioni. Vai a toccare questi tasti e quando toccherai il tasto giusto, vedrai che questa persona vivrà uno stato emotivo talmente forte che non potrà più andare avanti nell'insulto, non potrà più andare avanti nell'aggressività nei tuoi confronti, perché vivrà un'emozione talmente forte che da un lato la sua parte emotiva ti identificherà come un forte erogatore di tensione, una forte erogatrice di tensione, per cui da un certo punto di vista avverrà una sorta di coinvolgimento della parte emotiva che vorrà ancora provare questo tipo di tensione, ma la parte logica non sopportando emozioni così forti, non sopportando tensioni emotive così forti, perché tieni presente che quando tu vai a toccare questi tasti, quando andrai a toccare questi tasti, e se poi vai a seguirte anche i corsi che ho fatto sulla comunicazione non verbale, ho fatto diversi corsi, diverse lezioni, diversi video sulla comunicazione non verbale, che potrai andare semplicemente mettendo come chiave di ricerca su YouTube il mio cognome, Taramasco, e poi, che ne so, linguaggio del corpo, comunicazione non verbale, turbamenti emotivi, andrai a capire come fare, guardando questi video, a leggere a livello non verbale, come riconoscere quelli che sono i turbamenti, come riconoscere quando hai centrato il turbamento di una persona. Poi, ovviamente, in generale, riconoscerai che hai centrato il turbamento, il turbamento in pieno, quando questa persona vivrà una forte, un'emozione talmente forte, che non riuscirà più a governarla, non riuscirà più, e sicuramente sei tranquillo che l'ultima persona che andrà, diciamo, a cercare di scaricare la rabbia, sarai tu. Capiterà esattamente il contrario. È la stessa cosa di chi ha vissuto il rifiuto, persone che hanno vissuto forti rifiuti tenderanno a rifiutare gli altri, ma si appiccicheranno a chi li rifiuterà. Pensa te, chi amplifica il loro turbamento tendono a coinvolgersi. Quindi, in questo caso, sai che il turbamento è chi ha rabbia, chi insulta così, è sicuramente sulla rabbia compressa che hanno avuto proprio a causa di ingiustizie e torti che hanno subito. Gli amplifichi questi, gli dai un'emozione talmente forte che li bloccherà completamente. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonando ti potrai scegliere diversi livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate, video registrazioni seminarie dal vivo, abbonamento master consulting, e ancora in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti!